Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. È iniziata una settimana bollente dal punto di vista climatico. L'anticiclone africano Apocalisse 4800 si rafforzerà ulteriormente su tutta l'area mediterranea con temperature massime che raggiungeranno punte fino ai 41 gradi, soprattutto al centro nord. Il nome all'anticiclone è stato dato perché lo zero termico raggiungerà quota 4800 metri, in pratica la vetta del Monte Bianco. Gli esperti del Meteo.it l'hanno già definita come la settimana più calda del 2022. Valori e soprattutto durata saranno da record almeno fino a domenica 24 luglio. Il picco si dovrebbe raggiungere però tra il 21 e il 22 luglio, ma in nessuna città delle Marche dovrebbe scattare il bollino rosso. A Scolipiciano il capoluogo più caldo, qui sono attese temperature fino ai 39 gradi. Intanto turisti e non cercano un po' di rifriggiare o al mare. Si fa una passeggiata sfidando queste alte temperature? Sì, però si sta bene, c'è un po' di vento, quindi penso che sia una bella giornata. Anche il caldo non si sente tanto. Beh, diciamo camminare sulla riva aiuta. Sì, certo, certo. Con questo caldo lei è coraggiosa, ha trovato il coraggio di farsi un selfie sotto il sole? Sì, sì, grazie. Lei è coraggiosissimo sotto il sole con questo caldo? Ma non è caldo proprio, dai. Si sta bene? Si sta bene, benissimo. C'è un po' di arietta, una bella camminata e fa bene. Lei come lo combatte il caldo? Niente, non lo combatto, lo accetto. Lo accoglie? Perché è giusto che sia caldo. Buongiorno. Buongiorno. Doccia refrigerante. Bella doccetta fredda dopo questo bel sole. Ci sta, ci sta. Di dove sei? Dell'Abruzzo, siamo vicino Avezzano. Stiamo in vacanza qui, tra dieci minuti ripartiamo, giusto per ieri anche. Siete divertiti? Tantissimo, non vedo l'ora di rivenirci. Tanto siamo vicini, quindi riveniamo, riveniamo. Buona vacanza. Grazie anche a lei. Ciao.